il programma però vi dà la possibilità di eseguire una funzione che si trova dentro il menu produzione che è calcolo costo prodotti finiti e questa funzione vi dà la possibilità di elaborare tutti i vostri codici di distinta base quindi tutti i codici articoli che sono proprietari di una distinta base e determinarne il costo e se volete aggiornare anche il costo dell'articolo elaborato questa funzione lavora su parametri di selezione questa funzione cosa fa? specifico o un codice articolo o codice articoli perché dico prendimi l'articolo notev per cui dico elaborami tutta la famiglia dei codici notev che trovi all'interno della base dati ma qua parliamo di articoli presenti nella base dati quindi non parliamo di articoli che vengono creati quindi quelli reali oppure posso lavorare sulla categoria statistica sul gruppo merceologico sulla natura questi sono filtri di selezione impostato il filtro di selezione ho una seconda parte della maschera che mi chiede come voglio elaborare le informazioni il primo campo che costo vuoi che considero nell'elaborazione? avete gli stessi costi presenti nei parametri di magazzino l'ultimo standard del medico di carico il ponderato, il primo fornitore o il primo di questi che non sia zero quindi io dico elaborami, non so fammi un'elaborazione dei costi a costo ultimo vuoi che aggiorno il costo ultimo del prodotto finito? sì, posso aggiornare il costo ultimo posso aggiornare il costo standard o posso decidere di non aggiornare nessun costo cioè voglio solo una visualizzazione in caso di non aggiornamento vi si apre questo campo che è valore precedente cioè la funzione vuole sapere quale tra i costi ultimo standard devo utilizzare come raffronto per cui alla fine questa funzione vi mette a video qual era il valore precedente e qual è il valore nuovo che ha calcolato se invece dite che volete aggiornare il costo ultimo ovviamente questo campo non diventa più di input perché lui dice io raffronterò il costo ultimo che ho calcolato con il costo ultimo che avevo precedentemente posso, se voglio applicare una variazione di costo al costo che sto elaborando la posso applicare o a valore fisso o in percentuale in entrambi i casi vi si apre un campo subito dopo in cui dico applicami una variazione di costo pari a un euro cosa significa? il programma elabora legge tutti i costi che vi ho detto di leggere in cui dice ok gli aggiungo un euro oppure posso dire aggiungimi il 3% se volete la stampa delle variazioni vi chiede anche volete ricalcolare il costo del semilavorato? quindi in caso siano presenti dei semilavorati all'interno del prodotto finito la procedura vi chiede leggo il dato di anagrafica del semilavorato o risviluppo il semilavorato? quindi ricalcolo costo semilavorato significa io risvilupperò la distinta base del semilavorato e in questo caso quindi quando vado a sviluppare prendo il valore che ho calcolato il campo subito dopo vi dice il valore che mi avete detto di ricalcolare volete che lo aggiorno nel semilavorato? quindi mi avete detto di ricalcolare io calcolo il valore volete che aggiorno anche il semilavorato? queste sono scelte in più vi chiede la variazione che io ho applicato per variazione intendiamo questa variazione quindi la variazione in percentuale o a valore fisso la applico solo sui prodotti finiti? quindi se io devo fare un più 3% il più 3% lo faccio solo sulla risultante finale del costo o la faccio anche quando incontro dei semilavorati sui semilavorati? in questo caso il default è no variazione solo su PF no significa che in caso di ricalcolo dei semilavorati la percentuale di variazione verrebbe applicata anche ai semilavorati l'ultimo dato che vi viene chiesto è se deve considerare il lotto di produzione il lotto di produzione se vi ricordate è quel parametro che abbiamo negli ulteriori dati della distinta base che serve a questa funzione per affinare il calcolo affinare il calcolo cosa significa? questa funzione elabora il costo di un prodotto finito quindi sviluppa la distinta base con quantità unitaria 1 se io mi ritrovo un componente che ho specificato all'interno della distinta base in decimali 0,01 e lo moltiplico per 1 mi da 0,01 ma se il codice articolo che sto elaborando non gestisce i decimali la procedura tronca il valore quindi 0,01 per 1 numero di decimali 0 il ritorno della variazione 0 quindi questo mi comporta che ho perso un centesimo di costo finché un centesimo diciamo che bene o male siamo parati perché ormai quasi tutti gli articoli lavorano con due decimali però se lavorate con 4, 5, 6 decimali il valore infinitesimale che andate a esprimere potrebbe non essere tenuto in considerazione dall'elaborazione allora impostato un lotto di produzione e generalmente si mette un lotto di produzione che vada dal migliaio in poi la procedura cosa fa? lotto di produzione 1000 prende tutte le quantità le moltiplica per 1000 una volta che le ha moltiplicate per 1000 applica il costo ottiene un valore quel valore lo ridivide per 1000 secondo le proprietà matematiche moltiplicando dividendo un numero per se stesso il risultato non cambia quindi questo mi dà la possibilità però di avere un precisione nel calcolo del costo maggiore quando confermate il dato il programma elabora e vi mette a video tutti i nuovi valori calcolati confrontati con i valori che precedentemente erano presenti in anagrafica il secondo F10 poiché è previsto dalla mia funzione vi aggiorna tutti i dati delle relative anagrafiche questo ripeto se il parametro aggiorna costo ultimo impostato aggiorna costo prodotto finito impostato a ultimo standard in ultimo questa finestra vi dice per tutti i prodotti finiti che ha sviluppato quelli che sono o articoli non validi sono articoli che non si è potuto determinare come codice quindi verrebbero automaticamente esclusi e non mi permetterebbero di avere un codice articolo valorizzato correttamente o tutti quegli articoli che hanno il costo a zero nella relativa anagrafica quindi mi avete detto di prendere l'articolo lav0 il suo costo è zero io l'ho preso però essendo zero la sua valorizzazione non mi permette di determinare il costo preciso del mio prodotto finito quindi in questo caso vado a verificare i costi e li vado ad aggiornare ora per motivi di grafica queste sono per motivi di grafica vedete che qua c'è una riga vuota e sembra che la stampa sia finita qui purtroppo non è così vedete che qua la stampa continua per cui questo è solamente un problema di grafica fate attenzione quando vi appaiono le finestre dei messaggi di fargli sempre di arrivare alla fine della lista almeno della pagina del video che avete in questo momento cioè arrivate sull'ultimo fate un tasto giù giusto per vedere che non vi siano altri codici articolo o altre informazioni perché visivamente a volte si è tratto in inganno da questa riga vuota che sembra che siano finiti i messaggi invece a volte i messaggi continuano a essere presenti quindi tramite questa funzione come abbiamo visto siamo andati a aggiornare tutto quello che ci serviva anche qui in questa funzione in caso di non aggiornamento è prevista una stampa personalizzata se volete e questa stampa personalizzata vi da la possibilità di stamparvi le vostre informazioni come più vi piace ricordatevi sempre che da queste versioni per quanto riguarda le stampe personalizzate avete sempre la possibilità di utilizzare la stampante XML quindi la stampante Excel quindi in questo caso potrei farmi una stampa dove stampo le mie informazioni le sparo su Excel in modo tale che poi avendoci le su Excel posso fare quello che voglio bene quindi ho costruito la mia distinta base le ho stampate sono andato a vedere i costi sono andato ad aggiornarmi i costi di anagrafica da un punto di vista commerciale l'azienda può continuare a lavorare mi manca adesso tutta la parte relativa al lato produttivo